perché sei triste? cosa? cosa succede? cosa? cosa c'è? con chi ce l'hai? piove? non puoi andare a correre in giro? eh? piove? eh? c'è brutto tempo che sei triste? si è cauto il ciuccio? e adesso come facciamo? e adesso come faccio? con quelli di chi non è meglio? eh? chi è? eh? dai di papà nino d'angelo ma come siamo tristoli e quindi nipotini belli avevamo lasciato Noa che stava un po' fignotando col papà Stefano Corti e adesso invece gioca felice con la nonna diciamo che con un papà come Stefano è impossibile rimanere incacchiati per più di due secondi perché ti fa sbaccanare dalle risate in questo video neanche più di tanto ho dato il top in altri video che abbiamo messo su questo canale se volete vederveli è veramente di una simpatia unica lui per le iene ma anche a casa sua diciamo vi lascio ciao